Possibile inserendo Biava, Corini e Amaury. Il Palermo vuole il pallino in mano per poi ripartire in velocità. Amaury difende bene il pallone, desterno destro lancia di Michele. Sono trascorsi otto minuti e la squadra di Cridolini si porta in vantaggio. Amaury sfrutta un'ingenuità difensiva di De Nellim e bravissimo nel lanciare di Michele per l'ex bianconero Sponda Udinese. È facile incrociare su Frey. Il Palermo conferma la bontà e pericolosità del suo calcio.